Ho ho ho! Che cosa facciamo trovare ai nostri clienti sotto l'albero quest'anno? Ebbene, partiamo da quello che non può proprio mancare, ovvero una email natalizia, ovvero utilizziamo lo strumento email come parte del marketing. Marketing si fa in un periodo dell'anno, bello, specifico, chiaro che è quello natale, e allora ti darò nove idee, probabilmente sei qui per questo, di email aziendali che puoi mandare in tema natalizio, ma ovviamente prima di iniziare, tanti, tanti, tanti auguri. E allora partiamo dall'inizio. Marketing natalizio, che cosa si intende? Ebbene, marketing vuol dire fare delle attività, come sfruttare le email per comunicare con i tuoi clienti, magari automatizzando un pochettino i tuoi processi di comunicazione. E allora, hola Automatiker e futuro Automatiker, ti ho dato i miei auguri ma non mi sono presentato. Io mi chiamo Stefano e ti do il mio personalissimo benvenuto in Automatiking, la prima e unica accademia che in Italia e in Europa ti aiuta a mettere il pilota automatico al tuo business. Se non sai da dove iniziare, inizia da qui, inizia dalla nostra newsletter, automatiking.com slash gratis, ti ci scrivi gratis, è un regalo, e scopri ogni settimana tre strumenti che ti aiuteranno a vendere di più, senza stress, grazie appunto alle automazioni di business. Cosa molto importante perché fra un po' ti svelerò anche lo strumento che puoi utilizzare per inviare queste email, ma prima ti faccio una breve carrellata. Va bene, facciamo così. Email, nove idee che ti posso dare. Marketing natalizio, ma partiamo dalla base. Un tanti auguri, ma un tanti auguri sinceri che puoi mandare via email è una delle cose più apprezzate da parte dei tuoi clienti. Magari raccontargli qualche storia personale, come CEO, come amministratore delegato, come team. Lo potete scegliere tu o il tuo team, ma è molto interessante fare degli auguri sinceri. E qui permettetemi di fare delle ringraziamenti sinceri allo sponsor di questo video, GetResponse. Uno strumento fantastico che ti aiuta a gestire l'email marketing della tua azienda, ma anche a ottenere vendite, a ottenere clienti, a ottenere contatti. Ed è uno strumento semplice ed efficace appunto che ti permette di mandare la mail. E va bene, ma ti fa fare molto di più. Con un unico abbonamento, anche con versione gratuita, ti permette di creare l'ending page, automatizzare il marketing, ti permette davvero di portare online il tuo business, espandere il tuo pubblico, coinvolgere i tuoi clienti, aumentare le tue vendite. Ed è adatto, molto semplice, molto efficace, ma soprattutto molto adatto a noi imprenditori, a noi professionisti, a noi digital marketing, a noi marketing manager, oppure a noi che gestiamo grandi aziende. È uno strumento versatile che ti permette di creare tanto, tanto, tanto in maniera davvero integrata e automatizzata. E fra un secondo, torniamo alle mail, ma fra un secondo ti svelerò un regalo, una cosetta che ti piacerà tantissimo se vuoi approfondire un pochettino le automazioni del tuo marketing. Ma torniamo a noi. Ebbene, dopo l'idea delle mail originali, diciamo, sentite, possiamo dargli dei consigli. Consigli di che tipo? Consigli per gli regali che può fare. Non necessariamente per favore che vendi i tuoi prodotti, cioè non è un modo, non è un modo per vendere i tuoi prodotti e i tuoi servizi. È un modo per dare dei consigli a delle persone, ok? Magari le cose più in trend che stanno su Amazon, o che trovi tu, o dei gadget, delle cosette carine, che davvero possono utilizzare come consigli per i regali, oppure anche consigli per, chiamiamoli i party, le cene natalizie, le cene aziendali, quelle che possono fare con gli amici, con il team. Ecco, puoi consigliargli qualche cosa. È sicuramente una mail diversa, esattamente come una mail diversa, è quella del prenditi cura di te. E siamo in un periodo in cui noi esseri umani, magari dopo l'avvicinamento al Natale, con le feste, vogliamo stare con la famiglia, ed è un momento per ricordare alle persone con cui stiamo scrivendo, con cui abbiamo una relazione magari di fiducia, che sono potenziali clienti, o sono già attivi clienti, ebbene, ricordiamogli che è un momento per staccare, per prendere cura di se stessi, della propria famiglia, dei propri cari, perché non è da dare per scontato. E te lo posso assicurare. Come? Non è da dare per scontato che è una mail di beneficenza. Magari se conosci qualcuno, qualche realtà, che stanno raccogliendo dei fondi, ebbene, è il momento giusto per fare della beneficenza. In realtà, è sempre il momento giusto, ma diciamo che stai utilizzando con uno scopo nobile la tua email di Natale aziendale. Ma non è finita. Diciamo che passiamo da un estremo all'altro, allora io cambio di nuovo il coso del cappellino, e torniamo invece a, magari vuoi fare una promozione. Durante i sette giorni, la settimana di Natale, oppure da Natale a Santo Stefano, oppure da Natale a Capodanno, o quello che sia, faccio una promozione speciale per il mio business. Magari è a te, per natalizio, magari sono una spa, sono un hotel, e ti voglio far passare delle vacanze di qualità. Magari un ristorante, ti faccio una cena particolare a tema per la tua azienda, e organizzo delle cene aziendali, perché no? E allora posso darti una promozione pensata per te, ovviamente che sia coerente, ok? Con l'atmosfera delle mail natalizie che stai mandando. Esattamente come una buona e vecchia cartolina, una cartolina online. Magari una cartolina che vuoi preparare, in maniera brandizzata, magari hai dei figli, allora potete utilizzare, magari la, tutti il team, tutti i figli, tutte le persone del team, fanno una piccola, un piccolo disegno, e fate un puzzle, dei disegni che ne escono fuori. Lo fai disegnare solo ai tuoi figli, ai tuoi nipoti, alle persone della scuola vicina, fai una specie di concorso, dove magari fai, scegli la cartolina, ecco, qualche cosa che abbia senso per la tua realtà, per il tuo territorio, per le persone a cui lo stai mandando, e non necessariamente la classica cartolina di auguri con Babbo Natale, che si manda a tutto il mondo, perché qualcuna l'ha fatta, e ci sta, in un certo senso, speculando sopra, ok? Non è quella l'idea, il Natale è un momento sentito dell'anno, è una festa sentita dell'anno, e noi dobbiamo, da imprenditori e imprenditori, da core a core, cuore a core, dobbiamo comunicare, esattamente per questo, possiamo raccontare, un dietro le quinte, un dietro le quinte, della nostra catena di produzione, del nostro prodotto, del nostro servizio, di quello che sono state, le difficoltà dell'anno, che abbiamo affrontato, e quindi gli possiamo augurare, che lui abbia potuto, come noi, puoi superarle, oppure, qualche cosa, che è pertinente, al tuo business, e che è intima, che ovviamente, non vogliamo sapere i fatti tuoi, non è quello il senso, il senso è dargli un tocco, a questa mail di auguri natalizia, un po' più, con un po' più di interesse, e poi l'ultima, ultima ma non per importanza, ultima perché semplicemente, una storia alle tue fine, potrebbe essere una storia, anche conosciuta, una storia di qualche tuo cliente, una specie di testimonianza, quindi non un tuo dietro le quinte, ma una specie di dietro le quinte, o una storia, che tu conosci, che tu hai scaricato, magari anche preso da internet, una storiella che, magari ti ha, allieto fine, siamo in un momento dell'anno, in cui vogliamo, che tutto vada bene, e quindi, una storia che ti ha impattato, o anche una storia tua personale, di come sei arrivato, arrivata, nel punto in cui ti trovi, quindi potrebbe essere un misto, ecco, potrebbe essere un misto, ma quello che sicuramente, non è un misto, è la strategia, ti serve una strategia, comunque, a parte per le mail natalizie, e va bene, quella te l'ho data, ma ti ho dato anche nuove idee, tutte fanficate, ma ti serve anche uno strumento, per mandarle, e anche quello te l'ho dato, ti ho dato GetResponse, che è uno strumento fighissimo, aperte e chiusa parentesi, in descrizione trovi due link, uno appunto, uno sconto del 10%, un piccolo regalo, caso mai tu voglia utilizzare GetResponse, una versione gratuita, va benissimo, ma caso mai tu voglia di più, ebbene, perché pagarlo di più, ti do uno sconto del 10%, trovi il link in descrizione, e come ti ho detto, ti do un piccolo regalo, GetResponse, noi siamo un'accademia, facciamo corsi di automazione, ti aiutiamo a mettere il pilota automatico, al tuo business, e con GetResponse, abbiamo realizzato un fantastico, ma credimi, fantastico corso, che ti aiuta, attraverso 5 step, a automatizzare il tuo business, utilizzabile, non solo con la suite a pagamento, ma anche con quella gratuita di GetResponse, è davvero una figata, che ti può aiutare, per inaugurare, per iniziare bene l'anno nuovo, e dopo aver mandato queste mail natalizie, magari abbiamo un'idea in più, ecco, realizziamolo con uno strumento altramente integrato, che ti permette di fare, di tutto e di più, in maniera semplice, altamente integrata, e davvero molto 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 economica, quindi che dirti di più, è facile, siamo a Natale, hai attivato la campanellina, tin 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 tin, ecco la campanellina a cui mi rivolgo io, e a cui mi riferisco in questo caso, è quella di YouTube, iscriviti a questo canale, attiva la campanellina, così ogni settimana riceverai le notifiche, dei video, dei tutorial, delle strategie, delle automazioni, delle figate, e anche degli auguri natalizi, che ogni settimana pubblichiamo per te, per aiutarti a vendere di più, senza stress, e se non lo fai tu, occhio che c'è quel cattivone del tuo concorrente, che potrebbe scoprirci prima, e si iscrive, meglio che lo faccia tu, no? Ok, come sempre, un abbraccio forte dalle canarie, tanti 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 auguri, e buone automazioni a tutti, ciao!